Giunta alla sua ventunesima edizione, torna anche quest'anno, nel mese di ottobre, la campagna Nastro Rosa per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore al seno. Stamane si è svolta la presentazione delle iniziative in programma in città e anche in numerose località della provincia. Iniziative organizzate dalla Lega Italiana per la lotta contro i tumori, in collaborazione con l'azienda USL e l'azienda ospedaliera universitaria, il Comune di Parma, la provincia di Parma e con il patrocinio dell'Ordine dei Medici dell'Università di Parma. Campagna di screening che a Parma in questi anni ha portato risultati davvero importanti? Ha portato risultati estremamente importanti perché nel 2013 sono state invitate oltre 48.000 donne in fase d'età 45-74, di queste 48.000 donne il 69% è aderito e quindi oltre 33.000. Di queste donne qua che sono state sottoposte nei sei centri che noi abbiamo di screening oltre il Bagnasco anche in altre realtà distrettuali, circa 1.500 sono state richiamate per approfondimenti e di lì poi dopo purtroppo in alcune percentuali basse, però circa 195 donne, è stato diagnosticato un tumore in fase iniziale molto molto basso come dimensione del tumore, sottoposto poi ad un intervento chirurgico non demolitivo ma estremamente vital. Quindi siamo riusciti a prendere in tempo quella che potrebbe essere una patologia importante per la prognosi della donna. E quindi diciamo che lo screening in questa fase qui, l'adesione è estremamente importante proprio per la prevenzione e i risultati lo testimoniano del fatto che una percentuale è molto bassa e di questa percentuale molto bassa le donne sono state prese proprio in tempo per poter essere sottoposte ad intervento di tipo chirurgico o anche medico per contenere davvero quella che può essere una prognosi importante.